Ecco la cappella ricostruita. Abbiamo anche messo le tende. Adesso facciamo vedere tutto. Finalmente, un po' tanto lavoro, è terminata la cappella. Eccola qui. La tende. L'altare. Ruben, diciamo che ce lo saremmo risparmiato, però pazienza. Ruben. Ruben. Hello Ruben. Hello. Bello Ruben. Ecco qua ci avviciniamo. E questo è il cartello. Con l'aiuto di Suor Lucy abbiamo messo anche le statue e come vedete le tende. Le nuove panchine. Le panche già c'erano però. Adesso le facciamo rivedere. Si deve sapere quello che abbiamo fatto. Francesco mostra la panchina, com'è comoda. Cioè per mantenere Francesco sono strutturate benissimo. Ecco adesso ha fatto un rumore scricchiolante, però fidatevi che sono strutturate in maniera tale da tenere chiunque. Ora lo sciurgo. Tengono a Francesco, penso che non dovrebbero cadere. Tengono a Ruben, poi guardate là Ruben. Un bello purpetone Ruben. Eppure riescono a mantenere anche lui. Quindi ora è finita, manca solo la benedizione. Quindi vi rimandiamo al video della benedizione. Vi facciamo vedere soltanto questo bellissimo ghirigoro qui su. La cappella, possiamo dire signori, che è finalmente finita. Grazie. Grazie.